Calcio, parliamo del Pescara. Daniele Delicarri, Neo DS Biancazzurro. Manca solo il crisma dell'ufficialità. Oggi intera giornata, un vertice insieme con il presidente Daniele Sebastiani per fare il punto in vista della prossima stagione. A Delicarri saranno conferiti pieni poteri per quanto riguarda la scelta del tecnico e dei giocatori della squadra che parteciperà al prossimo campionato di Serie C. Entro i prossimi dieci giorni è previsto l'ingresso dei nuovi soci. La Serie C comincerà ufficialmente il 28 agosto. Siamo dunque al toto allenatore. Avete visto la foto sull'articolo che abbiamo scritto sul nostro sito www.reteotto.it perché l'ex tecnico del Teramo Federico Guidi non ha aspettato il Delfino e ha scelto la primavera della Roma a cordo biennale. Era il primo obiettivo del club biancazzurro. Esce dalla griglia dei candidati Stefano Vecchi che ha ancora un anno di contratto con la Feralpi Salosca. Adesso a 30 giugno 2023. Resta viva la pista Zeban. Attenzione, spunta un altro candidato che non è Cudini. Non ci sono riscontri. Cudini comunque apprezzato per l'ottimo lavoro svolto nelle ultime due stagioni a Campobasso. Ma è Alberto Colombo. 48 anni compiuti lo scorso febbraio. Ha allenato quest'anno il Monopoli. Quinto in classifica. Ha eliminato il playoff dal Catanzaro. Ha giocatore amilitato in Serie B con le maglie di Como, Monza e Albino Leffe. Da allenatore ha cominciato con la Propatria nel 2013. Nel 2014-2015 sempre in Serie C. Semifinale playoff alla guida della Reggiana. Quindi le esperienze con Sud di Tirol, Vicenza Alessandria, Arzignano, Virtus Francavilla. E appunto Monopoli nella stagione testè consegnata agli archivi. Quinto posto, quinto in campionato. Poi eliminato ai quarti playoff dal Catanzaro di Vincenzo Vivarini. Dopo aver avuto la meglio, ricordiamo, su Picerno, Virtus Francavilla e Cesena. Dunque il nome caldo in questo momento è quello di Alberto Colombo. Però attenzione perché resta viva la pista Zeban.